prima volta, poi ce ne andiamo fuori poi ragazzi, qua dovete anche divertirvi a fare delle piccole gare mettete in percorsiere dite, dovete fare 5 campi di 60 metri e 80 metri vediamo chi è all'ultima di stanza facendo 5 campi, 6 campi capito? c'è un doppio compito correre veloce e voglio andare anche a noi c'è un testimone eh? primo non lo possiamo fare perché è la 60 allora allora, l'ultimo per andare giù, dai state cambiando ogni volta? sì sì dai e con l'altra mano sinistro-destro veloce lui sta troppo addosso forza quando dice up devi mettere la mano per la stessa mano che si grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.